nemmeno un alito d'aria muoveva la fitta debbia inerte sul fiume era come una nuve di bambagia sporca posata sopra l'acqua non si distinguevano neppure le sponde sparivano sotto bizzarri vapori dentellati come montagne ma poiché il giorno era vicino a spuntare si cominciava a distinguere il versante della collinetta ai suoi piedi apparivano a poco a poco nel chiarore dell'aurora le grandi macchie delle case imbiancate a gesso nei pollai cantavano i galli da giù dall'altra parte del fiume sepolto sotto la nebbia proprio di fronte alla fretta un leggero rumore turbava ogni tanto il gran silenzio del cielo immobile a volte era un debole sciacquio come una barca che avanzava pian piano a volte un colpo secco come ad un remo che batta su un bordo a volte come la caduta in acqua ad un oggetto molle poi più niente e qualche volta parole sommesse che venivano chissà da dove forse da molto lontano forse da assai vicino vaganti fra quelle dense nebbie nate sulla terra o sul fiume scivolavano timidamente passavano via come quegli uccelli selvatici che hanno riposato in mezzo ai giunchi e partono appena il cielo si rischiara per fuggire ancora fuggire sempre e si intravedono appena un momento mentre solcano la nebbia battendo rapidamente le ali ed emettendo un grido dolce e timoroso che risveglia i loro fratelli lungo le rive del fiume in quello stesso momento vicino alla riva di fronte al paese un'ombra da prima incerta apparve sull'acqua poi in grandi si precisò e uscendo da quel sipario nebbioso gettato sul fiume una chiatta con due uomini a bordo venne a fermarsi sull'erba quello che remava si alzò e prese dal fondo della barca un secchio pieno di pesci poi si buttò sulla spalla la rete ancora gocciolante il suo compagno che non si era mosso gli disse se ti porto il fucile potremmo scovare qualche coniglio sugli arzini vero ma lo c'è l'altro rispose va bene aspettami ti raggiungo e si allontanò per portare dentro casa la pesca l'uomo rimasto dentro la barca riempì lentamente la pipa e se l'accese si chiamava la boise ed era soprannominato chicot ed era in società con l'amico mai shon volgarmente chiamato mai losce per esercitare la losca e indefinibile professione dei cercatori barcaioli d'infimo rango navigavano regolarmente solo nei momenti di estrema miseria per tutto il tempo rimanente non facevano che cercare e appropriarsi di quanto trovavano girontolando notte e giorno lungo il corso del fiume spiando qualsiasi possibile preda morta o viva bracconieri di fiume cacciatori notturni schiumatori di fogne ora facendo la posta alle bestiole della foresta di san germain ora si mettevano alla ricerca degli annegati portati a galla dalla corrente per vuotare loro le tasche ora cattare ogni straccio galleggiante e tutte le bottiglie vuote con il collo in aria che si spostano con la corrente dondolando come degli ubriachi e tutti i rottami di legno alla deriva la boise e mai lo shon non se la passavano male qualche volta se ne andavano a piedi verso sud camminando senza una meta precisa mangiavano in qualche taverna sul fiume e poi ripartivano insieme stavano fuori un paio di giorni e una bella mattina ecco che tornavano a zirellare su quel mondezzaio che era la loro imbarcazione laggiù a jeanville a nochen dei canottieri cercavano disperatamente la loro imbarcazione scomparsa di notte sciolta dagli ormeggi e sparita senza dubbio rubata mentre a 20 o 30 lega da lì sulla oase un signore borghese si fregava le mani ammirando il canotto comprato d'occasione il giorno prima per 50 franchi da due tizi che glielo avevano offerto lì per lì mentre erano di passeggio lo shon ricomparve col fucile avvolto in uno straccio era un uomo tra i 40 e i 50 anni alto asciutto con lo sguardo vispo che hanno le persone tormentate da legittime preoccupazioni e degli animali che si sentono braccati dalla camicia aperta usciva un pelame grigio che gli copriva il petto invece pareva che sulla faccia non avesse avuto nessuna traccia di barba tranne un paio di baffetti corti e a spazzola e un mucchietto di peluzzi duri sotto il labbro inferiore e i capelli alle tempie erano caduti quando si toglieva quell'ammasso di sporzizia che era il suo berretto la pelle del cranio pareva coperta da una vaporosa lanugine da un'ombra di capelli come un corpo di pollo spennato in attesa ad essere fiammeggiato chicò era invece rubizzo e bitorzoluto grosso basso villoso sembrava una bistecca cruda nascosta in un berretto da pompiere teneva sempre socchiuso l'occhio sinistro come se stesse prendendo di mira per colpire una cosa a una persona quando lo prendevano in giro per questa abitudine gridandogli apri l'occhio la boaz lui rispondeva paccioso non aver paura sorellina quando serve lo apro aveva anche l'abitudine di chiamare tutti sorellina persino il suo compare cercatore prese a sua volta i rami alla chiatta si inoltrò nuovamente nella nebbia immobile sopra il fiume ma che stava diventando bianca come latte nel cielo illuminato da rosa i chiarori la boaz chiese che piombo hai preso mai lo sean mai lo sean rispose quello piccolo da nove per i conigli è il meglio si avvicinavano all'altra sponda tanto lentamente tanto lievemente che nessun rumore poteva segnalare la loro presenza quella sponda fa parte della foresta di saint germain ed è oltre il limite della caccia ai conigli è piena di tane nascoste sotto le radici delle piante all'alba le bestiole vi si sgranchiscono vanno e vengono entrano ed escono ma il sean inginocchiato a prua era in agguato col fucile nascosto sotto il tavolato dell'imbarcazione la ferrò improvvisamente prese la mira e lo sparo rintronò a lungo nella tranquilla campagna la boaz approdò con pochi colpi di remo e il suo compagno saltando a terra percolse un piccolo coniglio grigio ancora palpitante la chiatta sprofondò nuovamente nella nebbia per raggiungere l'altra sponda e mettersi al sicuro dalle guardie sembrava adesso che i due facessero una passeggiata pacifica sul fiume l'arma era sparita sotto la tavola che serviva da nascondiglio e il coniglio dentro l'ampia camicia di chiccoe dopo un quarto d'ora la boaz domandò via sorellina un altro ma il sean rispose d'accordo andiamo e la barca ripartì discendendo in velocità la corrente la nebbia che copriva il fiume cominciava a sollevarsi erano visibili come attraverso un velo gli alberi della riva e la nebbia lacerata si divideva a fior d'acqua in tante nuvolette quando furono nei pressi dell'isolotto che alla punta davanti a Reblei i due rallentarono ancora e ricominciarono ad osservare un altro coniglio fu ucciso poco dopo continuarono a seguire la corrente sino a metà tragitto da conflans poi si fermarono legarono la barca a un albero e coricati sul fondo si addormentarono la boaz si alzava ogni tanto e scutava tutto attorno ad occhi bene aperti l'ultima bruma del mattino era svanita e ora saliva un gran sole estivo splendente nel cielo azzurro laggiù dall'altra parte del fiume il pendio coltivato a vigne si arrotondava in un semicerchio in cima c'era una sola casa tra un gruppo di alberi ovunque il silenzio ma sull'alzaia qualche cosa si muoveva ad agio avanzando a fatica era una donna che si trascinava dietro un asino la bestia anchilosata rigida e restia stendeva a intervalli una zampa cedendo agli impulsi della donna quando non ce la faceva più a resistere e andava avanti col collo teso e le orecchie abbassate così lentamente che era difficile prevedere quando sarebbe scomparso dalla vista la donna tirava piegata in due e ogni tanto si voltava per frustare l'asino con un ramo appena l'ebbe vista la boise disse uè ma è lo c'è ma è lo c'è rispose che c'è ti vuoi divertire? ma certo forza sorellina datti una mossa ci divertiremo e chicò riprese a remare quando ebbe attraversato il fiume e si trovò davanti al gruppetto della donna con l'asino gridò uè sorellina la donna smise di trascinare l'asino e guardò la boise continuò stai andando alla fiera delle locomotive? la donna non disse niente e si consistette dimmi un po' ha vinto il primo premio alle corse il tuo somaro? dove lo porti con tanta furia? la donna si decise a rispondere vado a macar da champiò per farlo ammazzare non è più buona niente la boise disse e ti credo quanto te ne dà macar? la donna esitò asciugandosi la fronte col dorso della mano e chi lo sa forse tre franchi forse quattro chicò esclamò te lo pago io uno scudo e ti risparmi il viaggio la donna ci pensò su per un po' quindi concluse affare fatto i cercatori scesero a terra la boise prese la briglia dell'animale ma il locian gli chiese stupefatto con sta carcassa che ci vuoi fare? chicò questa volta aprì anche l'altro occhio per mostrare con maggiore evidenza la sua contentezza la sua faccia rossa era tutta una smorfia di gioia ridacchiò niente paura sorellina ho fatto bene ai conti dette uno scudo alla donna e si sedette sulla proda per vedere quel che sarebbe successo la boise tutto contento andò a prendere il fucile e dandola a Milo Sean un colpo per uno vecchio mio adesso ce ne andiamo a caccia grossa sorellina ma no non così da vicino così l'ammazza al primo colpo ci dobbiamo divertire un po' e sistemò il compagno a 40 passi dalla vittima l'asino che aveva compreso da essere libero cercava di brucare le erbe lunghe della sponda ma era così stremato che le gambe gli facevano giacomo giacomo come se stesse per cadere Milo Sean milò con calma e disse sta attento chicò ecco una presina di sale sulle orecchie e sparò i minuscoli pallini crivellarono le lunghe orecchie dell'asino che si mise a scuoterle prima l'uno poi l'altra poi tutte e due contemporaneamente nel tentativo di far cessare quelle bruciature i due uomini ridevano come matti piegati in due battendo i piedi a terra ma la donna indignata avanzò verso di loro perché non sopportava di veder così martirizzato il suo asino e si offrì di restituire lo scudo furibonda e piagnucolosa la Boise si disse pronto a suo nagliele e fece il gesto di rimboccarsi le maniche aveva pagato sì o no e allora basta le avrebbe sparato nelle gondelle per farle sentire che non avrebbe provato dolore lei andò via minazzando di avvisare le guardie l'asino ricevette la scarica successiva nelle cosce ma i pallini erano così piccoli e sparati da una distanza tale che sicuramente credette d'essere stato punto dai tafani perché incominciò a battersi energicamente la coda sulle gambe e sul dorso la Boise si mise seduto per ridere a suo agio mentre Milo Sean ricaricava l'arma così allegro che sembrava starnutire dentro la canna si avvicinò di qualche passo e mirando nello stesso punto del suo compagno sparò di nuovo l'animale questa volta ebbe un soprassalto tentò di scalciare girò la testa finalmente vedevano colare un filo di sangue l'asino era stato colpito in profondità e doveva aver provato un dolore lancinante perché cominciò a scappare lungo la riva con un galoppo lento zoppicante a piccoli balzi i due si lanciarono a rincorrerlo ma lo sciò una grande falcate la Boise a passettini veloci con il trotto ansimante dei nani ma l'asino sfinito si era fermato e guardava avanzare i carnefici con l'occhio smarrito poi all'improvviso rialzò il capo e si mise a ragliare la Boise col fiato grosso aveva afferrato il fucile questa volta gli andò molto vicino non aveva più voglia di rimettersi a correre quando il ciucco ebbe finito di lanciare il suo grido di dolore quasi una richiesta di aiuto un ultimo grido di impotenza l'uomo che aveva già l'idea di quel che avrebbe fatto gridò Milos ehi sorellina vieni qui che ora gli do la medicina e mentre l'altro apriva a forza la bocca serrata dell'animale Scicò gli ficcò in gola sino in fondo la canna del fucile come se avesse voluto somministrargli una medicina poi esclamò qua sorellina attento ora gli do la purga e tirò il grilletto l'asino fece tre passi all'indietro cadde sul posteriore cercò di risollevarsi e alla fine si abbattè su un fianco chiudendo gli occhi dai denti gli colava un fiotto di sangue presto non tremò più era morto adesso i due non ridevano lo spettacolo era finito troppo presto e si sentivano defraudati ma lo sciondo mandò e beh adesso che ce ne facciamo la boas rispose niente paura sorellina imbarchiamolo e stanotte ci faremo quattro risate andarono a cercare la barca il corpo dell'animale fu sistemato sul fondo coperto d'erba fresca i due cercatori vi si sdraiarono sopra e ricominciarono a dormire verso mezzogiorno la boas tirò fuori dai ripostigli segreti del loro battello tarlato e sudicio un litro di vino una pagnotta del burro e cipolle crude e si misero a mangiare quando smisero si coricarono di nuovo sopra l'asino morto e ricominciarono a dormire al cadere della notte la boas si svegliò e scosse l'amico che ronfava come un mantice ordinando forza sorellina in marcia e mai lo sciò riprese a remare risalivano la senna pian piano avendo parecchio tempo davanti a loro costeggiavano le rive tutte fiorite di gigi acquatici o lezzanti di biancospini reclinati sull'acqua con candidi ciuffi la chiatta pesante color del fango scivolava sulle grandi foglie piatte delle ninfee piegandone i fiori lisci rotondi e divisi tra loro come campanule che subito riprendevano l'aspetto primitivo quando arrivarono all'altezza del muro di Leperon che divide il bosco di Saint Germain dal palco di Maison Lafitte la boise fece fermare il compagno e gli espose un progetto che scosse Mailochon in una risata silenziosa e prolungata buttarono in acqua l'erba stesa sulla carogna presero la bestia per le zampe e la portarono a terra e la nascosero in un cespuglio poi risalirono sulla chiatta e raggiunsero Maison Lafitte era notte fonda quando fecero il loro ingresso da comparjul oste e mercante di vino appena li vide costui si avvicinò a loro strinse le loro mani si sedette al tavolo per chiacchierare del più e del meno verso le undici quando l'ultimo cliente se ne fu andato comparjul strizzò l'occhio alla boise e gli disse allora avete della roba? la boise assentì col capo e rispose ce n'è e non ce n'è dipende l'oste insistete forse sono un paio di conigli grigi eh? allora Chicot infilando le mani nel camiciotto di lana ne trasse fuori le orecchie di un coniglio e annunciò fanno tre franchi la coppia cominciò allora una lunga discussione sul prezzo rimasero d'accordo per due franchi e sessantacinque centesimi e i due conigli furono ceduti mentre i due tipacci si stavano alzando Jules che li stava osservando sussurrò voi avete altra roba ma non me lo dite la boaz rimbeccò forse ma non per te sei troppo carogna l'altro incuriosito insisteva allora qualche bestia grossa dimmi di che si tratta ci possiamo mettere d'accordo la boaz che sembrava incerto fece finta di consultare con l'occhio Milo Sean poi rispose con voce guardinga ecco di che si tratta stavamo a Leperon in attesa quando una cosa ci passa sotto gli occhi nel primo cespuglio a sinistra proprio vicino al muro ma il osce spara la bestia va giù e poi scappiamo per paura delle guardie non ti posso di che bestia è non lo so manco io per essere grossa è grossa ma che ti dirai una bugia se lo dicessi e tu sai sorellina che tra noi non facciamo brutti scherzi l'uomo incuriosito chiese ancora potrebbe essere un capriolo la boaz rispose sì potrebbe anche o qualche altra bestia un capriolo magari ma forse è una bestia più grossa come una cerbiata ma non dico che è una cerbiata perché non lo so ma potrebbe essere l'oste insistette forse un cervo la boaz protese la mano questo no non ti voglio imbrogliare niente cervo l'avrei riconosciuto dalle corna no niente cervo perché non l'avete preso chiese Jules sorellina perché ormai vendiamo sul posto abbiamo chi compra capiscimi noi giriamo troviamo la merce la nascondiamo nessun rischio per BB ecco tutto l'oste sospettoso insinuò e se adesso non c'è più ma la boaz stese di nuovo la mano per esserci c'è sono sicuro lo giuro nel primo c'è spuglio a sinistra ma che bestia è non lo so non è un cervo però sono sicuro per il resto vattelo a vedere 20 franchi sul posto va bene Jules esitava ancora potresti portarmelo qui allora prese la parola Milo Sean sì ma allora cambia tutto se è un capriolo 50 franchi se è una cerva 60 ecco i prezzi nostri l'oste ci decise vada per 20 franchi e si batterono sul palmo della mano poi lui fece uscire dal bancone quattro grossi pezzi da 100 soldi che i due amici intascarono la boaz si alzò finì di bere e uscì quando era sulla porta si voltò a specificare non è un cervo di sicuro ma che è per esserci c'è se non travi niente ti restituiamo i soldi e Milo Sean che gli veniva dietro gli dava pesanti manate sulla schiena per manifestare la sua contentezza la sua contentezza l'uscrata la sua contentezza la sua contentezza